Un incontro con Mario Monti, questo è il primo appuntamento nell'agenda del segretario del PD Pierluigi Bersani dopo la vittoria alle primarie del Partito Democratico. Sarà con Monti, ci siamo detti per telefono quando ho ricevuto le congratulazioni, sono state le prime che mi sono arrivate, mi ha fatto molto piacere, una tempistica eccezionale. E in questo momento, dice Bersani dalla Libia, suo primo impegno internazionale dalla vittoria di domenica, il tema più importante è la legge elettorale. Il dossier più importante è la legge elettorale in relazione allo sbandamento del centrodestra, anzi ne approfitto per dire, mi spiace doverlo dire da fuori Italia, che se domani credo il centrodestra, il PDL avrà un incontro, avrà una riunione per decidere il suo atteggiamento politico, per favore ci faccia sapere cosa pensa precisamente, ma sul piano politico, della legge elettorale.